buongiorno buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video spesa oggi è martedì ed io sono qua registrare il video spesa settimanale per voi oggi mi servivano poche cose quindi non dovevo fare grandi acquisti ma poche cose per eseguire delle ricettine e sono andata qui vicino casa mia la coppa dove ho speso da del faccio tutto un giro e ci riesco 63 euro e 61 centesimi la coppa è proprio vicino casa mia quindi non ho voluto allontanarmi molto ho comprato le cose che erano in offerta lì e che poi tra l'altro mi servivano pure allora ho preso una cassa intera da 12 buste di latte mila parzialmente scremato ce l'ho lì perché pesa tantissimo l'ho salita per due piani mi sono quasi ammazzata da sola però ho voluto salire per non lasciarla in macchina poi ho preso una confezione findus di fagiolini che andrò subito a fare oggi poi come suggerati ho comprato i bastoncini findus i filetti di salmone e due fish burger per l'ele poi ho preso un pezzo di formaggio che si chiama puzzone moena dopo dalla malga forme questo è un un formaggio tipico del posto questo qui l'ho pagato 3 euro e 55 era in offerta poi ho preso i soliti duetti di prosciutto cotto stamattina ho trovato in offerta i negroni quello nazionale stella poi ho preso circa 330 grammi di ricotta non so il signore me l'ha confezionata così ma va bene devo andare a preparare sono indecisa se una quiche o una torta rustica napoletana non lo so ancora vediamo poi ho preso due confezioni di polpettini amadori queste quando vado di fretta le metto nel sugo e i ragazzi hanno il pranzo pronto ho preso ancora una confezione di fiori di zucca che andrò a fare in pastella poi era al 50 per cento questa stracciatella veniva scontata alla cassa devo dire il vero era un po indecisa se prenderla o no per la scadenza molto breve perciò era al 50 per cento sono tornata a casa l'ho trovata un po acquosa adesso non so se se la apro e la riporto indietro perché è diventata completamente acqua non lo so perché non so come venuto a prenderla aveva vedendo la scadenza così vicina però era solo questa avevo voglia oggi di stracciatella ma mi sa che non va bene dopo controllare poi ho preso in offerta sempre una confezione di mulino bianco di nascondini per la colazione erano a 99 centesimi le passate mutti con basilico e ne ho comprate due poi ho preso una confezione di birre poi ho preso una confezione di valeriana della coppia songino per intenderci una confezione di carote tagliata julienne che vittoria mangia anche così è una confezione di salata iceberg tutte queste del marchio coppo poi ho preso tre panini pane arabo una pagnotta di pane fatta con lievito madre una bottiglia di olio extravergine di oliva da un litro questa è della clemente è la prima volta che lo compro amore in ogni goccia tradizioni di famiglia cento per cento italiano estratto a freddo poi ho preso una busta di tavernello che mi occorre per cucinare è una confezione di spinaci sempre infatti adesso con la ricotta sono indecisa se andare a preparare una quiche ricotta e spinaci oppure la torta rustica sono un po indecisa vediamo col tempo anche perché questa ma è poco l'ultima cosa scusate ho preso questo barattolone io già ne ho altri sono molto comodi con i suoi coperti diciamo perché ho una confezione di una max confezione di tarallini aperta i biscotti tarallini sapete quei antipasto e quindi mettendole nel barattolo anche cereali tutte le cosine che ho già sistemate nella dispensa mi durano più tempo conservando la loro fragranza l'ho trovato e l'ho preso era l'ultimo me ne correvano due ma va bene andrò tornerò alla coppa e ne troverò un altro prima o poi tra l'altro stamattina ho dovuto prendere riprendere in un certo a scuola perché aveva il torcicollo aveva la verifica d'inglese ed è voluto andare per forza a scuola ma dopo neanche un'ora professoressa giustamente mi ha detto che non aveva questo forte dolore quindi sono andata pure a riprendere la scuola infatti sono passata in farmacia ho preso anche una pomata per passarle sul collo poi sempre alla coppa come detersivi scusate ma dimentico delle cose ho preso il grass ex questo qua con ammoniaca e asciugatura rapida queste vedre multiuso ma io lo userò per i vetri perché ho lo straccetto adatto per i vetri però ultimamente quando passo lo straccetto sebbene io lo lavi sempre o in lavatrice o addirittura a volte anche con la candeggina mi rimane un cattivo odore sui vetri e dura un bel po quindi a questo punto a quello straccetto che va usato senza alcun detergente voglio mettere un po di glass ex quando purisco i vetri e vedere come come vengono voglio provare vediamo e poi ancora ho preso due bottiglie di via cal uno è con ecco qua ambipù fresco profumo è uno e classico tutta questa roba per la maggior parte alla coppia era in offerta infatti già il nuovo volantino per le nuove offerte dove ci sono altre cose interessanti io adesso vado da caddis vado da a ticotà per comprare detersivi però ho visto che delle volte nei grandi supermercati ci sono delle offerte molto convenienti ed è inutile che quindi mi accumulo tutti i detersivi da comprare e andare in questi negozi prettamente di detersivi quando trovo l'offerta le compro ma nulla toglie che vado anche a comprare i saponi per l'igiene personale anche in questi grandi negozi perché è più difficile che trovo quello che mi piace nei supermercati bene amici oggi sono un po stanchina volevo dirvi se volete per le video ricette perché mi è stato chiesto andatemi a seguire su tik tok sempre come anto sweet mamma perché da pochi giorni mia figlia mi ha aperto il profilo che per il momento sta andando molto bene e dove pubblico delle piccole video ricette perché il tempo ormai a me scappa sempre sfugge sempre dalle mani abbiamo sempre tanti impegni quindi quando riesco registro quasi ogni giorno devo dire il vero su tik tok anche solo per un semplice saluto e anche su instagram come antonella tupo nel frattempo io vi abbraccio ringrazio sempre per seguirmi e per l'affetto che mi donate vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video video svuota spesa ciao